Amici di Unibet, eccoci qua a presentare la partita di Champions League, Arsenal-Paris Saint-Germain. Le due squadre sono appaiate in testa alla classifica girone, 10 punti, quindi una partita che deciderà il primo o il secondo posto. Due squadre che vengono dagli ultimi impegni dove l'Arsenal ha perso una partita con il Manchester United di Mourinho, mentre invece il Paris Saint-Germain viene da una vittoria 2-0 nell'ultima di campionato, è terza in classifica, sta risalendo, secondo me è ancora la squadra da battere nel campionato francese. Mi aspetto una gara aperta, aperta con parecchi gol, anche se alla fine secondo me l'Arsenal, provo eh amici, la butto lì, 2-1 per l'Arsenal, sono sempre Evaristo, scusate se insisto.